Non tagli ma razionalizzazione. Questa è la parola d'ordine del direttore generale Antonio Squillante alla presentazione del nuovo atto aziendale dell'Aslo Salerno, documento che non sarà indenne da critiche e probabilmente modifiche durante il passaggio in regione. Innanzitutto si passa ad un'organizzazione dipartimentale. 22 le macro strutture con budget e organizzazione autonoma. A questi dipartimenti afferiranno le varie attività ospedaliere, distrittuali e tecniche amministrative. A pagare pegno saranno le strutture complesse e le strutture semplici. Le prime passano da 300 a 159, quelle semplici da 450 a 206, con un taglio di oltre il 50%. Le strutture complesse interagiranno e faranno capo ai dipartimenti che daranno indirizzi e procedure comuni. Importante il risparmio che ne conseguirà. Abbiamo calcolato così velocemente in soli stipendi o meglio indennità aggiuntive che verrebbero erogate in meno appunto ai perdenti posto. Perdenti posto ripeto che non sono per l'amor di Dio persone che fino ad oggi hanno rubato qualcosa, sono persone che avevano un incarico e l'hanno portato avanti. Forse molto spesso queste attività non erano indispensabili per il buon funzionamento. Comunque abbiamo calcolato un risparmio di circa 3 milioni e mezzo di euro l'anno di risparmio, più l'indotto che sarebbero appunto tutta la riorganizzazione, quindi l'organizzazione della pianta organica. Per quanto riguarda gli ospedali saranno sei le strutture inserite nella rete dell'emergenza. Nocera e Vallo, dea di terzo livello. Sarno, Polla, Sapri e il potenziale ospedale della Valle del Sele, dea di secondo livello. Agropoli non viene proprio menzionato nell'atto, mentre Liveto C3 e Scafati saranno riferimento riabilitativo con 80 posti letto cada uno. Questi ospedali sono stati individuati con una nuova missione che è quella della riabilitazione. Su Scafati voglio dire però che abbiamo fatto un elemento importante e innovativo. Scafati sarà integrato con l'ospedale di Nocera, quindi avremo gli ospedali riuniti di Nocera, pagani e Scafati in un unico soggetto. Una vera novità importante per questo territorio che mi permetterà in questo modo di poter valorizzare anche l'ospedale di Scafati. In totale i posti letto passeranno da 1873 a 1675. I distretti sanitari saranno invece ridotti da 13 a 10. L'importante è che riesca una volta per tutti a fare un consiglio regionale monotematico, avendo il coraggio di affrontare questo problema della sanità, che oggi manca in Regione Campania. Io parlo di maggioranza e di opposizione, la capacità di discutere di cosa rappresenta la sanità nella Regione Campania. E la provincia di Salerno è troppo penalizzata e parlano i numeri.